Il nuovo sito di destinazione della Toscana è visittascani.com, presenterà 310 località e 1700 attrazioni. Senza la promozione oggi non stiamo sul mercato. Fare promozione in maniera scontata significa perdere lo smalto, perdere l'autenticità, perdere quello spazio di sollecitazione che invece viene ricercato da chi sul web cerca di immaginare una propria esperienza di viaggio, un proprio racconto, un proprio ruolo diretto ed attivo. L'idea è quella della piattaforma dinamica in continua evoluzione. In realtà il momento positivo durerà anche e soprattutto se noi siamo in grado di raccontare nei prossimi anni anche altre forme di viaggio in Toscana, forme di viaggio esperienziali, fortemente emozionali, innovative. Visit Toscani queste le racconta e le racconta in anticipo, quindi sarà per noi uno strumento che utilizzeremo nella comunicazione digitale ma anche nella comunicazione più tradizionale. Quindi siamo molto contenti e crediamo di essere sulla strada giusta. Contenuto ed esperienza in un sito che vuole raccontare una terra da vivere tutto l'anno. La vera novità è che abbiamo pensato di coinvolgere i veri protagonisti, quindi territori, comuni, operatori, che potranno inserire e proporre e pubblicare direttamente contenuti, offerte e itinerari. Il sito, che sostituisce turismointoscana.it, è un progetto di Regione, Fondazione Sistema Toscana e Toscana Promozione Turistica. I 9.300 contenuti sono tutti scaricabili sugli smartphone e i visitatori possono entrare in contatto direttamente con le 17.000 strutture ricettive della Regione. Grazie.